Salve a tutti e bentrovati in questo nuovo video, io sono Max e siamo ancora qui con il gossip perché c'è stata una puntata, e beh, non proprio indimenticabile per Federica Panicucci che nella mattinata del 12 sembrava aver dovuto in qualche modo fare i conti con Mattino 5 con un problema, sì, un problema però inaspettato. Immediatamente si è scusata con i telespettatori ma è parsa molto sorpresa da quanto le stava capitando. Ovviamente il pubblico ha avuto qualche momento di apprezzione, come è normale che sia, poi si è scoperto tutto e si è compreso l'origine dell'imprevisto, e allora un inizio settimana che indubbiamente poteva avere un epilogo senz'altro migliore. Federica Panicucci ha dovuto affrontare un problema, invece durante le sue vacanze, precisamente circa un mese fa, era rimasta vittima di un incidente mentre si stava godendo momenti di relax, dicendo, bene dai, sono caduta con la bici e sono scivolata sugli aghi di pino. Stavo facendo una curva, a Forte dei Marmi c'era stata questa tromba d'aria e le strade sono piene di aghi di pino, quindi di conseguenza. Non andavo neanche veloce, fortunatamente, però la bicicletta ha fatto l'effetto scivolata. Sono caduta a terra, mi sono sfasciata un ginocchio, però può capitare. Entrando invece nello specifico dell'appuntamento TV andato in onda su Mediaset, quindi particolare e totalmente diverso da quel che vi ho raccontato, Federica era intenta a soffermarsi sul, sapete, sulla scomparsa della regina Elisabetta che ci ha colpiti tutti quanti improvvisamente durante il programma, e allora ecco palesarsi un problema improvviso. Nel corso del suo discorso rivolto ai telespettatori, la conduttrice TV ha iniziato ad avere una voce non perfetta, quindi una voce un po' roca. Visto che la problematica era ben visibile anche da casa, ha deciso di dir qualcosa e provare a chiarire quanto le stesse succedendo, quindi ha detto scusate per la voce, all'improvviso ho avuto un calo, ma non so cosa sia successo. Dopo alcuni minuti di imbarazzo e anche un po' di preoccupazione, tenuto conto che avrebbe potuto compromettere il suo lavoro, la voce è ritornata normale e ha potuto proseguire la trasmissione senza problemi. Ovviamente bisognerà capire se si sia trattato di un caso isolato oppure se in futuro possa in qualche modo ripresentarsi un problema simile, ma speriamo assolutamente di no. A parte questo, Federica, vi ricordo signori, che è al timone di mattino 5 dal 2009, mentre dal 2019 presenta anche il concerto di Natale e dal 2017 Capodanno in Musica. L'anno prossimo invece sarà super protagonista nella conduzione della trasmissione Back to School, che sarà trasmessa nuovamente su Italia 1. Ricordo che dal 4 gennaio al 26 gennaio scorsi il programma era stato condotto da Nicola Savino, ma questo adesso poco ci importa. Per ora è tutto per questa news, vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiremo alla prossima, vi aspetto.